Il Taranto torna a vincere, batte 1-0 il Brindisi in crisi nera a questo punto, la formazione ionica dà un calcio, eventualmente una crisi che poteva aprirsi per i risultati, mettendo invece in seria difficoltà la panchina fino a questo momento da parte di Ciro Danucci, che mescola le carte e gioca con il 4-2-3-1-3-4-3 per il Taranto, sorpresa Luciani dal primo minuto, mentre in attacco c'è Orlando per la formazione ionica, undicesimo, destro da parte di Orlando ribattuto dalla difesa a Brindisina, ionici che protestano per un presunto calcio di rigore e viene ammonito anche Capuano dalla panchina. 32esimo esterno destro di Calvano dal limite al lato, il pallone, un primo tempo in cui il Taranto fa un leggero predominio tenitoriale ma senza costrutto, ripresa, Canutè, minuto 47, azione personale, Malaccar in difficoltà riesce a deviare il pallone. 55esimo Calvano dalla lunga distanza non trova la via del gol, ma lo Iacovone spinge il Taranto che passa in vantaggio al minuto 58, punizione bassa di Orlando dalla destra, girata di piede da parte di Pietro Cianci, perde la marcatura a Bizzotto, batte quindi Albertazzi, 1-0, quarto gol di Cianci e il gol decisivo per la partita. 74esimo Taranto vicino ancora al 2-0 Fabbro, vede in aria Zonta ma il tiro è troppo debole e Albertazzi riesce a parare. 3 minuti di recupero ma la partita finisce con soltanto la prima vera occasione per il Brindisi al minuto 91, calcio di punizione dalla sinistra di Galano, Vannucchi in calcio d'angolo, finisce così 1-0 per il Taranto. Sicuramente sono tre punti importanti per rafforzare la propria posizione pre-off.